La curva è male, signore. È un po' stretto. Andà a poggiamo. Sì, questo è vero, però se la poggiamo qui gliela facciamo. Aspetta un momento. Sì? Sì, credo proprio che sì. Sì, sì. Sì, sì. Senti, fammi un piacere, vami a prendere il foglio 6 del progetto, vuoi? Subito, signore. Au, Aguirre, ma che hai fatto qua? Io so tutto. A me come uscimo, che ricottolo? E perché ci va solo un minuto e rompo? Ma che rompo? Sai tu che hai rotto? Hai rotto? Hai capito che hai rotto?